ci sono dei momenti in cui tu hai la sensazione che una squadra stia un po' andando alla deriva e stia andando alla deriva anche perché l'allenatore non riesce più a avere il rapporto con i giocatori quindi l'Inter se poi vai a vedere perde con la Lazio dopo aver fatto un buon primo tempo gli è girato un po' storto il secondo tempo e ha perso e ci può stare no? Quante squadre ti gira storta e poi ti riprendi col Milan è entrare in campo senza più crederci tanto l'Inter che è forte secondo me quando l'ha messa poi sul piano dei nervi e trova il 3-2 allora scopre di avere delle risorse dentro di sé che fino a quel momento non c'erano e che l'allenatore non è riuscito a tirare fuori e lì comincia a preoccuparti l'Inter col Bayern come ha detto giustamente lei non ci ha mai creduto neanche un minuto allora vedo l'allenatore che fa delle scelte strane che cambia improvvisamente mettendo il portiere lo cambia poi cambia il centrale poi cambia il centrocampista ma vedo che la squadra di fronte a questi cambi radicali non risponde e che c'è un nervosismo e c'è un modo anche di relazionarsi dall'allenatore negativo e allora mi domando siccome tanto non è la tattica noi pensiamo che basta passare dalla difesa 3 alla difesa 4 per risolvere i tuoi problemi così come alla Juve dicono no eravamo a 4 passiamo a 3 i problemi non sono tanto tattici ci sono problemi soprattutto di concentrazione e di determinazione allora dico se è compromesso il rapporto con la squadra e il rischio c'è se tu metti appunto un ex importante uno di Carisma Stankovic a me sembra un gruppo che si è un po' rotto parzialmente con l'allenatore questo è un rischio terribile vediamo col Torino vediamo poi nella partita di martedì però se non ci sono risposte in queste due partite va presa una decisione secondo me sì secondo me anche perché l'Inter deve lottare comunque è proprio quella mancanza di voglia io vedo per esempio contro il Bayern io ho visto Brozovic per esempio non era il solito Brozovic al tipo che giocava per tanto per sembrava che stessero facendo la partita della pace era una partita di Champions col Bayern è normale una partita contro il Bayern non bisogna prepararla quella si prepara da sola gli stimoli devono venire da sole certo poi se ti trovi in un momento così difficile dove gli avversari corrono il triplo perché gli avversari correvano molto di più questa è ora non so se è una condizione fisica una delle accuse che si allenano poco una delle accuse dell'ambiente dei giocatori che sussurrano è che ci siano allenamenti non abbastanza pesanti e premianti poi per la prestazione in campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti